bentornati rossi e rossi qui christy red a ken and lynch 2 sempre insieme al nostro buon vecchio robo zombie 94 e sempre con lui adesso dovrebbe essere il finale pensavamo noi pensavamo che era l'ultimo invece la fonte non era attentibile attendibile come un culo adesso ci siamo appurati e questo è l'ultimo capitolo del gioco del bug del gioco del sì che tra l'altro che che bussa il coso la scenetta che è la scenetta si infatti c'è il tizio che ti parla in sottofondo infatti dice che diavolo allora si pronti andiamo se il gioco ok me lo permette il bug glielo permette il bug permette jenny sono papà ascolta mi dispiace so che non ci parliamo da tempo lo sai senti torno a casa spero che dimenticheremo il passato ho chiuso con quella vita spero che mi perdonerai tesoro se non tornassi ricorda voglio che tu lo sappia ti voglio bene mi vuole bene ci ritroviamo non so perché a usare l'inchio e io che in poi per me poi per me poi per me ah pistoletta silenziata ma non lo poteva sul aereo è la che lo troveremo spero tu abbia ragione ma giù è pasta l'inchio ma stiamo tipo giù mettiamoci coccati no è tanto è silenziata quindi dovremmo non aver fatto danni ancora però questi due signori qui davanti mi secondo di due ci guarda quindi ah sono pure diventati tre quindi abbiamo no ma stella per l'euro c'è per loro tecniche ninja hanno preso al per me non avrei fatto mai in tempo il quadro di corsa aspetta che vado subito ma ci sono degli agger se credo guardi di destra a sinistra la tattica per spostarsi spero tu abbia ragione basta lì e basta ancora appena siamo a portata di tira a questi li grivegliamo pistola e giocattolo vediamo le nostre fanno rumore avremo un finale turbolento già me lo sento lo sottotolo laggiù che sta fuggendo speriamo che hanno detto la burla no no non ci troviamo in ola sotto addosso no la sottotolo no 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 che sta arrivando sto premendo come un canguro però è già morto vedo eh lo so guardate sto arrivando era 17 metri a quindi partiremo verso la mezzanotte comunque vi sta l'orario ok aspetta aspetta silenzioso torniamo a ucciderli prima che chiamino aiuto e coppo pure il civile me ne frega niente e coppo tutti coppola qua però se questo muore non avrebbe ma dai li facciamo su Si sente che ci stanno cercando Aspetta che qui l'amico Prince Eh c'era pure un altro qui Pixel Ah, io ero di lei Prendo Guardata Justamente ho preso prima l'arma e poi la cuore Mi pare giurata Ah, da l'altra parte Dove va lei? Ho visto un amico che abbiamo lasciato un po' indietro Tanto c'era uno vicino Ah, non ho fatto così tempo No, prima l'arma eeeh, c'è nient'altro Mi piacciono le mie armi Eh, andi loro, pure qua c'è dono E comunque qui la tattica migliore Andare df Dfk No, comunque stiamo sbagliando Stiamo ritornando su Benissimo Dobbiamo uscire e prendere aria Bella madonna Tanto faccio il classico e giro all'altra parte Guarda di spalle il mio amico Non ti farò del male Ha, muoro Lasci fuori, Ico Arrampicati Guarda che ho visto un'arma Mi è piaciuta parecchio, non c'è più Direttore per direttore Guarda come si muove sta tetra Donna mia, brilla con camera Ma pure chi l'ha prodotto il gioco Chi l'ha creato, chi l'ha ideato A tutti Ecco l'aereo Grazie al cielo Oh, cazzo Non ci posso credere Calma, lince Bella Bella Come troveremo un altro aereo Io voglio questo Prenda Potenti C'è sta il mitraglione qui Eh sì Stiamo proprio dall'alto Come corrottame non può volare C'è sta che non va sto aereo Non lo vuoi il mitra Lo venghi a prendere, lo venghi Da qua Aspetta un attimo che qui sto cerca anche munizioni Andiamo via Andiamo via Qualcana su? Ah sì No Qui sotto Ok Vi torna dalla nostra amica Sara Ah sì Ma Sara ci risca Tiri, tiri E' un suicidio La sicurezza negli aeroporti è altissima Non sarà facile Ma non abbiamo altra scelta Di tutte le idiozie che abbiamo fatto Non vedo alternative, ok? Sì Ce la faccio Bene Troviamo un aereo Troviamo un aereo Troviamo un aereo Forse è qua sotto Lì da quello tizio Da quella luce Qua giù Sì sì Come si muove Sempre il terremoto in questo gioco Donna mia Era di assumere morfina Pure E quindi qui Bill non può entrare Che non ci sei affilata di pezzo Ci ha visto pure entrare armati Non ti sento Fa voglia capire perché in questa io sono ok Nessun lince Ma vabbè Che dal gioco gli andava E' uno che si è messo in ginocchio a pregà Giustamente Mezza una sparatoia Si muore così Guarda ce ne stanno tu che stanno affati po' comune e la la giola Che rete Ok uno è morto Do stanno sti qua? Da adesso tutti morti Allora facciamo Sara Aspetta un attimo che qui ho trovato le mie solite amiche a munizioni Dividiamoci Così proprio senza fatte vedere Sì infatti Se è capito dove sei andato te I cari militari sono tornati E qui invece c'è ancora la security Ma che diavolo è successo? Tirato subito È un ambiente al gusto Poi lo vedrà Che schifoso Una santa tantissima No vabbè ma sopra è un bordello T'ha proprio ridata a zona peggioro mi sa Porca miseria quanti ne vengono Mai visti così tanto Lo aspetto un po' Eh cazzo uno me ne è piovuto molto dosso Io qua aspetto proprio Porca troia Attento Cain Oh merda Comunque cominciano pure a venire da me Poi quelli sotto sparano pure a me maledetti Ah Aia niente Da sotto mi incidono Oh no Dai resiste in un angolino E io poi Io dobbia al mitra Oh vedi Cagare il fucile Vada 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 un tio non ha sparato a te vedo Mi piace Mi abbiamo presi Credo di si Li abbiamo presi eh Ma non mi fai Lo abbiamo preso Altro che Altro che Si faccio uccidere Ok Stalta no C'ho l'arma adatta Ok Devemmo andare avanti Adesso si che può fregare Maledetto Maledetto Sì No madonna È da te Da sud Madonna Eh non siamo al com' un riparo Eh regà Eh eh Che va Ragazzi Eh eh Mena male Mena male che è da qua Ok io la vedo eh attento che... no no no, non andare là, questo vuol me... come gire a sinistra eh ma non posso scendere lì mi sa che l'ho appena trapanato quello che mi spara inizio no no ma vediamo di stare solo con copertura eh no, eh... spara lì, spara lì, mi curano mi stanno trapanando i proiettili eh, lo trapanò te o lo trapanò me vai però tu mi trafasuglio ho sempre col culo per terra però mi servono armi, porca troia che ci sono là sopra? si mi sei fatto il culo adesso vi prendo... oh, vedi? dove stanno? Eccoli là nooo, porca troia, porca troia oh, bo, mentre stavo speriamo che c'è c'è po' a stavarta no, non fermarti eh ma va a cagare, va capito? c'ho niente manco me danno le armi qui cioè, trenta secondi io posso andare anche con trenta secondi vedi, rimango qua proprio all'inizio del gioco vedi, rimango qua e... facciamo il cacchio qua no, ma mi sa che è la tattica migliore ma questo qua per terra non l'ho visto fido il mitraglione cinese ma quanti colpi te ce vogliamo ah, c'è chi ne è nudi da qua magari non che si sta ho sparato alla rincusa non ho fatto i secchi parecchi si si, io a fare sparare con loro lassù e mi sta spara' pure a me un po' eh, mi sta spara' me pure c'è, io non ho le armi ho il fucile a pompa aia non posso essere utile io da qua ho il fucile a pompa però ah, c'è una pippa ah, ha com'era ai premi velocemente quindi puoi scendere Sì, posso scendere, ma se scendo sto attaccato in faccia a loro Ma dettica, però, è mo capita, mo Spara più che puoi Dove sei lì? Andiamo! Vabbè, ma mi fanno affacciare, sti figli di anatra Vabbè, c'è ancora qualcun altro in vita? Sì Falta però risparmiare i sicuri, eh Sono morti Facciamola finita, farsa Brutto momento per chiedermi di cambiare arma Eh no, mi stanno sparare, mi stanno uccidere Non torno indietro in quel momento Cacca Tanta cacca Però questo io lo faccio sudare Eh Dove sei lì? Andiamo! Ma dove sei lì? Appiati schiaffi Da quello lassù Da quello lassù Tanto io lo vedo Tanto io lo vedo Unciso, unciso Che fate? Morite? Maledetti Da 60 colpi Da 60 colpi 70 colpi Mi sono rimasti Non riesci a far sta cosa Ecco Non ci riuscirò mai Ci dimmi quello lassù Per più Aspetta un attimo No, maledetto Ecco Non fermarti Ok Questo Che è un Dove sei lì? Andiamo Cosa è impossibile Guarda questa mira di merda poi Cabe davvero Ok Morto Quello col mitraglione A fare con calma Ok Morto pure quello Volverò essere morti tutti Evaricamente Ho sentito un Ho sentito un cinese che si Ingrifava Uno che ora l'ha buche buche Aspetta Io sono riuscito a scendere C'è sta Una cosa De fuoco lì Andiamo a cogliere sopra Chi l'ammazza Aspetti Aspetta aspetta Sono morti? Uno Ma come uno? Mi l'ho tirato in faccia Stanno a continuare a sparare su di me Pollo da sopra a bigli altri Aspetta e qui non mi hanno neanche lasciato da solo Oh uno l'ho ucciso Ce l'abbiamo fatta Oh Forza Ce l'abbiamo fatta Questa di vittoria Manco un fucile qui per terra decente La Sara Arrivo arrivo Tanta minuti se lo sto Tiri Mamma mia Non oso immaginare la difficoltà in possibile Difficoltà estrema Quì si madonna Di tutto Vogliamo prendere quello Bello grosso Lo rei a nero Eeeh Pare Vuoi reflective Ci sei Tu sei Tu sei Questa Che Mamma mia Cade ma quanto spammola è e questo sarà messo tipo in un angolino a fare il camper non finirà mai è stata non me frega quello già ho l'anno all'angolietto ma qua ci sono pure le porte lo dite ditelo prima no? dove sta? va il giro largo qua vedete che ci sparano due armali ma chi è col trimone ha pure te sono scatti vabbè che cazzo sta telecamera no i quadratini pixel dove è andato? ah ok hai fatto il giro eh io vedo l'ora di finirla sta scena ma mia oh sta spegnere no come sto spegnere ti provare poi il bazar air air lines oh chi è il maletto mi spara mi ci fanno qua che è vicino alla sale cinesca qua oh billy i cani di merda oh tu billy i cani di merda i cani di merda ma che hai perso l'aereo non lo so qui dovevamo pure correre tu corri eh tu corri eh tu corri dici eh no cosa hai perso l'aereo Peppino ha tirato via le scale finalmente Peppino Peppino via 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 tanto ci sappiamo eh lo fanno anche in questo succede ah dritto per dritto si semmo ci spareranno dietro un po' comando billy e due billy poi erano io non lo so che è vicino alle sale cinesca non ci sparano dalle finestre cane di merda io ero che cazzo no è preso sacca sacca treno sacca bordo cazzo su ma che ha tirato via le cose sei morto non lo so su di ciò tu corri vabbè ma eh via adesso ma secondo me devo anche sparare a quello vedete ai cani finalmente no ai cani i 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 cani constitu sinistra sinistra ma sto un po' indietro r leurs falsas al massimo mi copra dai cani io perché tanto secondo te i due devi salire per forza mi sparano questi maledetti cani riesca a prendermi dai salga dai salga ma i cani mi incuro ce l'abbiamo fatta via proprio così ma stiamo scherzando dai così io spero che si può schippare famoso invio no ok ho fatto tipo l'esc ho fatto l'esc chiusura in corso mi dà ok chiusura in corso vuol dire che si sta chiudendo il gioco o la stanza non lo so qualcosa di star chiudendo che cosa le sta facendo caricamento niente è tornata la cosa cioè il gioco è finito così si non c'è un vero e foco finale a quanto pare adesso possiamo anche eliminare il gioco dalla faccia della terra possiamo disinstallare il gioco rimuoverlo rimuoverlo da la lista steam è proprio io direi che si può concludere qui proprio la serie è stato bellissimo fare questa serie con lei signor cristian è stato un piacere di credo che il prossimo sia ancora migliore si può solo che essere migliore e questo sicuramente perché ma che porca la miseria non è possibile una cosa del genere che mentre corri droga assoluto ah si ricoglimento assoluto via via con le droghe ragazzi dite no alle droghe no alla droga hashtag no alle droghe a me calcola se la carica adesso ecco e mi è tornato adesso almeno pensate vabbè io direi che si può chiudere se vi è piaciuto il video ditelo con un like con un commentino qui sotto fateci sapere soprattutto se volete altri giochi così in co-op tra me e il signor cristian magari nel mio canale o sempre nel suo andate dal robo zombie in descrizione ci sta sicuramente il link del suo canale e quindi ci becchiamo al prossimo video ciao alessandro e ciao a tutti grazie a tutti e arrivederci